buonasera amici di mondo futsal e benvenuti alla finalissima del memorial criscuoli di fronte farmacia sacripanti maglia rossa e pescheria in prota Michael Montagna che prova a partire da destra la conclusione importa la gran parata da parte di Gregori ferma tutto molto bene Natalizza che però viene fermato attenzione a ciuffa che va con il destro trova però la deviazione da parte prova a scappare via viene fermato da Montagna attenzione a tre contro due ora Riccio che porta palla prova a sterzare andare sul destro sempre Riccio battere il corner attenzione alla conclusione di Montagna Gregori mette il pallone sui piedi di Gregori che lo alza molto bene per Tabanelli attenzione all'uscita di Ciarla prova il solito cambio gioco intercettato però da Montagna attenzione a Montagna il pallone per Riccio e poi la gran parata doppia da parte di Gregori già battuto con il rilancio a cercare ciuffa ottimo il controllo non era facilissimo a domesticare questo pallone ciuffa porta spasso Natalizia e poi fulmina Gregori per il vantaggio della farmacia Sacriplanti quindi ciuffa la torre del gol porta palla cambia lato per Riccio attenzione alla chance per Riccio e poi caro tenuto Natalizia con il destro Cristofori zona tiro ci pensa va la conclusione e il pareggio da parte di Dennis Cristofori trova l'angolo più lontano con il sinistro Rosati con la suola prova a portare a spasso Capogrossi quindi Tabanelli la conclusione ci riesce con l'1-2 il dai vai perfetto ancora un dai vai con Barontini che serve a Rosati verticale per Gattamelata che se ne va da destra può andare a conclusione con il destro Gregori ci mette una pezza poi Capogrossi poi Marconi da sinistra va la conclusione Montagna da sinistra prova ad accentrarsi Montagna va la conclusione il palo è pronto lui con il sinistro spara in porta Ciarla gli dice di no cerca e trova Natalizia l'errore attenzione alla ripartenza vincente da parte della farmacia Sacripanti con Nicolas Riccio che riporta avanti la formazione maglia rossa 2-1 di nuovo in vantaggio serve Cristofoli occhio alla ripartenza da parte di Riccio velocissima il break da parte della farmacia Sacripanti con Riccio la sterzata va con il sinistro la traversa e poi arriva Marconi conclusione diretta in porta attenzione a Cristofoli attenzione alla conclusione ora Tabanelli Natalizia Rosati da sinistra defilato la sterzata se ne va a Rosati con il sinistro Ciarla Tabanelli con il destro il siluro da parte di Tabanelli Ciarla con le mani lunghissima cercare Ciuffa fermato quindi Rosati con il sinistro può sparare in porta in maglia rossa Cristofoli spara la porta cerca lo spazio per girarsi e c'è il pari di Cristofoli 2-2 Corrico qui sa il pallone Montagna però a sua volta fa suo occhio Carotenuto con il destro c'è il nuovo vantaggio da parte della farmacia Sacripanti con Carotenuto costretta a recuperare la squadra di Rosati in possesso palla proprio il numero 11 che va con il sinistro trova Natalizia non c'è spazio sbaglia Natalizia l'appoggio quindi Ciuffa la ripartenza da parte della squadra in maglia rossa con la conclusione diretta in porta da parte di Ciuffa Gregori dice di no va la conclusione da parte di Carotenuto Carotenuto di prima per Ciuffa che se ne va con un gran numero Ciuffa con il destro il palo porta spasso il pallone sempre Rosati il numero di Rosati con il sinistro va a calciare Montagna riconquista il pallone Gattamelata ci arriva ci arriva Gattamelata va la conclusione fermato poi attenzione all'1-2 Rosati con il destro spara in porta la deviazione di Ciarla Montagna dall'altra parte viene fermato da Natalizia 2 contro 1 attenzione a Rosati che prova a passare Rosati viene fermato da Ciarla non c'è fallo pronto lui con il sinistro Cristofo arriva la conclusione in porta la farmacista Sacripanti con Ciuffa da destra mette al centro il palo colpito da Gattamelata va a Rosati con il destro la parata da parte di Ciarla Montagna ferma tutto alza il pallone Ciuffa 2 contro 1 attenzione alla chance per il numero 10 attenzione a Ciuffa liberissimo di calciare 4 a 2 e adesso sì che si chiude l'incontro ora Cristofoli prova a passare va alla conclusione con il sinistro larga conclusione e c'è il 5 a 2 di Gattamelata che chiude l'incontro va alla farmacia Sacripanti la dodicesima edizione del Memorial Criscuoli da Davide Mancini è davvero tutto arrivederci agli amici di Mondo Futsal grazie a tutti